benvenuti buonasera benvenuti alla mia consueta rubrica striscia la cultura la cultura che striscia che serpeggia soprattutto sotto le scrivanie ecco dei dirigenti rai ma anche dei dirigenti delle case editrici che notoriamente se ne sbattono i coglioni ecco io mi presento per i pochi che ancora non mi conoscono sono la ducbaro principessa rosalia di lampedusa e ovviamente discendente del celeberrimo don giuseppe tomasi undicesimo principe di lampedusa dodicesimo duca di palma barone di montechiaro barone della torretta grande di spagna di prima classe una minchia così ecco benvenuti nel mio salotto letterario qui si parla di libri ma a cosa serve un libro ecco un libro serve a tantissime cose a sventolarsi nelle giornate di caldo per esempio oppure a mantenere il peso sopra una foto che vorreste incollare oppure come sostegno a un tavolino rotto ma perché no anche per pulirsi il culo ogni tanto infatti io sono contrarissima ecco al romanzo breve di quelli letterati ecco di quei critici letterari che sono notoriamente estitici e infatti a mio parere che andassero pure a cagare ecco ma un libro serve anche pensate per i bicipiti e i tricipiti scongiurando quell'odiosissimo effetto a tendina che dopo una certa ci arriva tra capo e collo inevitabilmente e con questo penso di avervi rotto i coglioni abbastanza e viva la wallera grazie a tutti Grazie per la visione!